Sulle tracce di Mario Finzi è il titolo del docufilm che è stato realizzato per ripercorrere la storia di un giovane musicista ebreo nato a Bologna nel 1913 e che converte la sua propensione all'arte a salvare invece le persone che sfuggono dagli orrori del nazismo come gli ebrei ma non solo. Una storia di un giovane che ai giorni nostri può ancora dire veramente tanto per i valori che porta e che proprio per questi motivi abbiamo deciso di effettuare il lancio di questo docufilm che verrà proiettato per la prima volta a Bologna durante la giornata della memoria di utilizzare come sfondo quest'opera che c'è alle mie spalle dal nome Non Uccidere perché Mario Finzi aveva proprio nel suo pensiero un obiettivo quello di combattere gli orrori del nazismo ma senza l'utilizzo delle armi e quindi ci sembrava opportuno e anche coerente potersi appoggiare a un'opera così significativa realizzata in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione italiana. Grazie al Maxi di Roma per avere dato l'opportunità a noi di utilizzare quest'opera come collegamento simbolico alla nostra.